Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Volevo solo aprire una piccola parentesi e dirvi di non fare troppo caso alla mia voce rauca perché in questi giorni qui in Vale d'Aosta ha fatto abbastanza freddo e ovviamente io mi sono preso un colpo d'aria e quindi mi è venuta la raucedine quindi non è niente di che però volevo solo dirvelo perché se poi durante il video sentite che sono degli abbassamenti di voce o cose varie non è niente di che preoccupante ecco. Ma iniziamo subito il nuovo anno. Io l'ho tenuto da parte con tutto questo argomento proprio per iniziare il nuovo anno con queste novità che è così in questo video vediamo tutti i pagamenti del mese per quanto riguarda non so la pensione, la Narspi, il trattamento integrativo, l'assegno unico, RDC, tutto tutto. In più ci sono altre piccole novità che ovviamente sono partite e che comunque partiranno proprio dal 2023 che si aggiungeranno alle novità, cioè alle novità, alle scadenze dei pagamenti che già conoscevamo nel 2022. Ma ci sono, ma ve le spiego comunque poi più avanti nel video. Partiamo comunque dalla più semplice che è la Narspi. I pagamenti della Narspi partono presumibilmente con la data calda del 9 di questo mese. Poi sempre per quanto riguarda la Narspi, nelle varie informazioni che si possono leggere sul sito internet dell'Inps questa, quindi la Narspi, spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se si presenta la domanda entro i primi otto giorni dalla data di cessazione. Questa piccola informazione l'ho data più che altro per tutti quelli che ancora non mi seguono e che quindi non hanno visto i miei video precedenti così da tenere aggiornati un po' tutti quanti. Anzi se non l'avete ancora fatto come vi ho detto all'inizio iscrivetevi al canale così per tutte le prossime novità rimarrete sempre aggiornati. Proseguiamo con l'assegno unico universale. Ci sono state delle novità, ci saranno delle novità però per queste cose qua adesso poi vediamo bene un attimino come funziona. La data dell'accredito dell'assegno unico universale vi dico subito che non è una data fissa e comunque i pagamenti dovrebbero arrivare tra la seconda e la quarta settimana di questo mese. Quindi stiamo parlando in pratica della settimana del 9 e la settimana del 23. Allora adesso vediamo alcune date calde anche qui per gli accrediti di assegno unico e le date sono queste se volete potete segnarvele il 9 l'11 il 26 e il 27. Dentro queste date di accredito dovrebbero essere compresi anche gli arretrati dei mesi precedenti che ovviamente partono da marzo del 2022 e arrivano fino a dicembre del 2022. Apro una piccola piccola parentesi. Voi lo sapete che da marzo fino a giugno si ricevevano tutti gli arretrati e poi da giugno quindi dal primo di luglio in avanti si prendevano i pagamenti ordinari quelli senza arretrati. Poi sempre per quanto riguarda assegno unico universale chi invece prende il reddito di cittadinanza riceverà automaticamente l'accredito dell'assegno unico dopo la ricarica del nuovo sussidio. Quindi per capirci o il 16 o il 27 di questo mese. Inoltre come vi ho detto prima pare che chi farà domanda di assegno unico entro il 30 di giugno di quest'anno riceverà anche gli arretrati mentre invece chi farà domanda poi dal primo di luglio in avanti ovviamente di quest'anno non riceverà gli arretrati ma come vi ho detto come l'anno come già successo l'anno scorso riceverà i normali pagamenti da luglio in avanti. Reddito di cittadinanza RDC e PDC pensione di cittadinanza partiamo da questo. Lo scorso anno i pagamenti sulle carte di RDC e PDC sono stati fatti a partire dal giorno 26 ovviamente per i vecchi percettori diciamo così no? Ecco questo mese invece i pagamenti per i vecchi percettori dovrebbero partire dal giorno 27 mentre per i nuovi percettori i pagamenti partono dal 16 perché comunque il 15 cade di domenica e non penso proprio che ci saranno dei pagamenti anticipati. Fosse caduto di sabato era un discorso ma visto che cade il 15 di domenica sicuro si parte tutto dal 16. Comunque poi se cambia qualcosa vi tengo poi aggiornati oppure vi faccio un post o una storia qui su youtube ecco quindi così magari vi dico più brevemente senza insomma stare a farvi un video intero ecco. Questo mese comunque tra l'altro non riceveranno la ricarica tutti quelli che hanno finito i 18 mesi di RDC lo scorso mese e che quindi dovranno inviare la nuova domanda di rinnovo e poi e poi da quest'anno inizieranno le nuove regole delle 7 mensilità anziché le classiche 18 che già siamo abituati a conoscere e questo ovviamente vale solo per chi richiede RDC la prima volta oppure lo deve rinnovare. Per tutti i dubbi gli aggiornamenti perché in questi giorni molti mi avete chiesto ma io l'ho rinnovato l'anno scorso a maggio giugno ma vado avanti per 18 mesi oppure dal primo di gennaio viene ridotto a 7 quindi devo fare poi rinnovo a aprile maggio oppure che corre. Allora per tutte queste domande qui se volete potete scrivermele qui sotto oppure magari poi io mi organizzo e faccio un post dove potete fare tutte le domande anzi facciamo così che così magari viene anche più comodo. In questi giorni poi farò un post quindi dopo l'uscita di questo video farò un post che comunque potete trovare nella scheda community del mio canale dove vi chiederò appunto di scrivere tutte le domande tutti i vostri dubbi per quanto riguarda il RDC i rinnovi dopo quanto se scadono se non scadono chi è obbligato chi non è obbligato e poi eventualmente così non così e poi così poi io prendo tutte le vostre domande e poi le metto tutte insieme in un video e ci possiamo fare un bel video riassuntivo con tutte le risposte a tutti i vostri dubbi ecco proseguiamo con il bonus renzi sulla narsfi i pagamenti del bonus renzi dovrebbero arrivare già dalla prima metà di questo mese quindi a partire dal giorno 9 e lo ripeto nuovamente per chi si fosse iscritto per la prima volta al canale perché chi lo segue ormai già lo sa perché praticamente lo dico quasi sempre i pagamenti continueranno ad andare avanti fino alla fine del mese ricordatevi poi anche che quando non si percepisce il bonus renzi sulla narsfi durante l'anno sarà poi possibile recuperarlo nella dichiarazione dei redditi quindi stiamo parlando del 730 o modello unico redditi che si dovrà poi compilare fare tra qualche mese ormai è iniziato l'anno nuovo quindi tra qualche mese si ricomincia di nuovo con la solita routine del 730 o del modello unico redditi e sempre per quanto riguarda il bonus renzi da 100 euro sulla narsfi non è comunque riconosciuto a tutti quanti e molte volte durante l'anno non viene pagato perché non si superano i limiti reddituali minimi dell'anno in corso ecco quindi anche questa un altro un'altra risposta che do a tutti quelli che mi dicono ma perché io non l'ho ricevuto perché a me non è stato pagato quando arriverà quando non arriverà ecco questo questo è il motivo cassa integrazione che sta ancora aspettando i pagamenti del quanto riguarda la cassa integrazione in deroga del fondo per l'artigianato o di qualunque altro tipo di cassa integrazione pagata però direttamente dall'inps deve controllare le date di accredito direttamente sul sito internet dell'inps all'interno del proprio cassetto previdenziale e poi comunque ricordatevi che per tutti gli altri pagamenti che non sono gestiti direttamente dall'inps bisogna chiedere comunque al proprio datore del lavoro perché è lui che conosce le modalità di invio della vostra pratica oppure poi magari lui chiederà al suo consulente del lavoro e vi farà sapere pensioni inps beh ovviamente le pensioni inps quando uscirà questo video sono già iniziati per quanto riguarda le pensioni inps sono già iniziati i pagamenti perché questo video esce di mercoledì e il 2 il 2 del mese iniziano i pagamenti delle pensioni ovviamente anche qui seguono sempre la scadenza dei pagamenti in ordine alfabetico carta acquisti di gennaio allora tenetevi forte perché qui c'è una novità che adesso poi vediamo arriva anche questo mese la ricarica bimestrade della carta acquisti detta anche social card e la data della ricarica sulla carta quindi la ricarica sulla carri dei soldi sulla carta i soldi inizieranno ad arrivare dopo i primi 15 giorni del mese chi ha fatto domanda per ottenere la carta riceverà comunque gli 80 euro che potranno essere poi usati per fare vari acquisti come per esempio la spesa per gli alimenti acquistare i farmaci e medicinali e anche il pagamento delle bollette di acqua luce e gas vi ricordo inoltre che oltre al reddito alimentare del destinato a tutte le famiglie che si trovano in gravi condizioni economiche si può questo reddito alimentare si può avere per chi ha un isè inferiore a 15 mila euro e adesso arriva arriva il bello ok perché qui vediamo la carta risparmio spesa apro una parentesi non mi chiedete perché carta risparmio perché l'hanno chiamata carta risparmio non lo so l'hanno chiamata carta risparmio e buona nota al secchio in pratica è un blocchetto di buoni spesa così dicono che potranno poi essere utilizzati in tutti i negozi commerciali convenzionati con il comune di residenza e servirà anche questa per comprare i prodotti alimentari o comunque i generi di prima necessità come aveva già detto anche in altri video tempo fa perché anche di questa cosa ne ho parlato circa un due tre settimane fa saranno proprio i comuni a gestire questa carta risparmio dicono i comuni perché pare che abbiano considerato il fatto che i comuni sono quelli che riescono a capire meglio la situazione della zona della città e quindi pare che siano loro quelli preposti alla gestione proprio perché conoscono le persone del loro luogo ecco staremo poi a vedere se i comuni saranno in grado di gestire tutta questa massa di soldi ecco e qui mi fermo per non andare troppo avanti entrare troppo nel dettaglio e poi dire che cosa ma che cose per conoscere poi più in dettaglio su come funziona la carta risparmio bisognerà aspettare la pubblicazione del nuovo decreto attuativo che si presume uscirà entro la fine di febbraio quindi secondo me secondo me vedremo questa carta non prima di maggio o di giugno e poi comunque prima che arriveranno i soldi ai comuni che comuni si decidano a dire tu sì tu no tu sei bello tu sei brutto tu mi sei simpatico tu mi sei antipatico passeranno mesi e comunque poi vi terrò aggiornati tutti quanti bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo ancora una volta di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e come sempre noi ci vediamo sempre e solo sull'unico canale originale di youtube il mio il mio vi aspetto ciao 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 ciao